Il Consorzio Agrario di Piacenza pensa a un nuovo nome dopo la recente acquisizione del Consorzio di Milano e Lodi. Il Presidente Marco Crotti parla di un'identità che cambia dopo oltre un secolo di storia e che deve stare al passo coi tempi, uscendo dalla dimensione provinciale per cogliere le opportunità di un mondo che ormai è invece globale. Per la questione di identità dobbiamo trovare il giusto riconoscimento anche per quei soci, quel territorio che oggi vede il nuovo Consorzio al loro servizio. Quindi è una riflessione che stiamo facendo che farà perno su Piacenza perché Piacenza ne ha la sede, la capitale è la storia ma sicuramente dovrà inglobare come messaggio tutti i nuovi soci agricoltori della Lombardia. I numeri del Consorzio Agrario la dicono lunga sullo stato di salute dell'azienda, fatturato aumentato del 50% o ricavi superiori ai 150 milioni di euro, una realtà in continua crescita e che con questo storico accordo entra nella pancia di Expo 2015. Credo fortissimamente che attraverso Expo vada accolta l'opportunità di poter comunicare e vendere non tanto delle produzioni ma un territorio che ha determinate caratteristiche. Noi come Consorzio, come mondo agricolo da tempo operiamo perché questo territorio sia sostenibile, sia a basso impatto ambientale, possa produrre delle eccellenze, possa essere innovativo perché di innovazione abbiamo fatto tanta ma rispetti le tradizioni. L'evento mondiale di Expo è ormai dietro l'angolo e il Consorzio piacentino, ormai anche milanese, ha aderito ad ATS. Riteniamo che sia una grande occasione per poter comunicare le eccellenze ma poter vantare un valore di un territorio che è inestimabile e che tocca solo noi saper raccontare.